no 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 dai perché sei venuto in l'arrivo? Lugino! no lascio stare ormai dai Lugino ormai basta è andato via no basta dai 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 ormai dai 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 sta pregando prima di presa, first round se sei buttati, va bene, lavora con il destro, un po' se sei caricato eccolo là, prendi la misura con il destro lungo che il destro prendi la misura, prendi la misura no, no, no va bene, va bene, eccolo là, va bene così no, vai, eccolo là prova con il diretto destro, prendi la misura con il diretto destro vediamoci, stai montante sinistro lì la misura con il diretto destro dai, lavora con il diretto destro stai montante dentro? sei pronto per scattare il montante? quando si abbassa, montante sinistro piegando la destra tua vieni a destra ecco eccolo là, dentro là mandano a vuoto e rientra a vuoto e rientra, Mohamed eccolo là a vuoto e rientra, va bene da su poi manda bene da su poi a sinistro eh balla da malevino, Mohamed per balla con il diretto sinistro è morto quando viene sei là il diretto sinistro, Mohamed, come che viene? eh, egli ha perso due o tre occasioni sotto anche qui non fare a svelle con lui non fare a svelle fanno lavorare che non... fanno lavorare, fanno lavorare a vuoto rientra sì dai sulle gambe dai fanno lavorare, Mohamed fanno lavorare un po' di più dai non dare a far fare su in concreto dai fanno lavorare su dai sotto ci portate tanto in sinistro, dopo sotto là troviamo tanto in sinistro dai 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 non dare via non dare via fanno lavorare, Mohamed più colpi più colpi, Mohamed no dai più colpi, Mohamed bravo Damiano dai 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 quando lo mandi a vuoto perché non rientri sotto eccolo là su senza buttarti addosso tre bravo là così buttate sinistro dai 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 bravo bravo prima ripresa seconda ripresa second round Dai su, Mohamed, dentro il cuore, bravo, 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 bravo. Dai 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 Dai, dai, dici, dai, contatto, sinistro. Quando non male è vuoto rientra bene, dai. Dai, subito, dai, subito, dai. Sotto, sotto, dai, sotto, mamma. Dai, sotto, mamma. Dai, ora. Sotto, 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 sotto. Sotto, sotto, sopra. 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 Sotto, sotto. Sotto, sotto, sopra. Sotto, sotto, sopra.